Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare del sesso di mantenimento. Che cos'è il sesso di mantenimento? Il sesso di mantenimento non è altro che fare sesso in coppia quando in realtà non si avrebbe poi così voglia o farlo per compiacere il proprio o la propria partner. Il sesso di mantenimento è un'attività che si svolge soprattutto nelle coppie datate in quanto non si fa magari sempre l'amore, si finisce per fare sesso perché magari il lavoro, la routine, i problemi, gli ormoni vanno a contribuire al calo del desiderio e allora si opta per fare il sesso di mantenimento. Solitamente le donne sono coloro che lo praticano di più ma è stato dimostrato appunto che fare sesso di mantenimento in coppia rafforza la coppia e fa bene alla coppia in quanto intanto non c'è nulla di male se ci si concede al proprio partner anche quando non si avrebbe voglia è un po' come fargli un regalo è un po' come fargli un piacere è un po' come un segno se vogliamo anche di amore non ho tanto voglia ma mi concedo a te quindi è un atto, un bell'atto ovviamente non deve diventare una consuetudine farlo sempre e solo quando non si ha voglia però se fatto ogni tanto il sesso di mantenimento fa bene alla coppia e poi perché come si suol dire l'appetito viene mangiando di conseguenza si sa che la libido soprattutto quella femminile sale nel momento in cui più si fa sesso e più si ha voglia di farlo meno lo si fa e meno si avrà voglia di farlo quindi il sesso di mantenimento fa bene alla coppia fa bene praticarlo ovviamente non deve diventare una regola però è qualcosa che aiuta aiuta le coppie di lunga data aiuta le relazioni perché si sa che e poi detto tra donne aiuta anche per quanto riguarda il tradimento cioè fare sesso di mantenimento fa sì che l'uomo non vada a cercarsi da mangiare in altre case con questo video è tutto se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale della Pink azionate la campanella per ricevere tutte le notifiche dei nuovi video un bacio a presto dalla Pink ciao ciao